Il costo della vita è sempre più caro e per una famiglia oggi arrivare a fine mese è una vera impresa. La benzina aumenta sempre più, i costi delle utenze domestiche sono raddoppiati e a catena anche le materie prime sono sempre più care mentre i beni di prima necessità per alcuni sono diventati quasi un lusso a fronte di stipendi e pensioni sempre più bassi. Anche a Isernia c'è in sofferenza tra rabbia e rassegnazione generale. Cosa deve fare una famiglia per arrivare a fine mese? Deve stare comunque molto attenta, deve cercare di mantenere quelli che sono i consumi, non possiamo farci niente ragazzi, così sta andando, è un po' triste. Allora noi siamo anche fortunati perché comunque lavoriamo in due, però comunque è aumentato tutto e sinceramente cominciamo a guardarci dal superfluo. Chiedo una remosica, è così semplice. Bisogna tirarsi su le maniche e stringere un po' la cinghia. Non si vive bene ma si deve andare avanti, come si fa? Bisogna risparmiare il più possibile e quindi tagliare tante cose che prima facevamo, le uscite, il parrucchiere, l'estetista, quindi niente. Purtroppo finché le cose non cambiano dobbiamo risparmiare in questo modo. Purtroppo il costo della vita è aumentato tantissimo ma gli stipendi purtroppo sono sempre quelli. Quindi dobbiamo vedere come risparmiare, uscire sempre meno e limitare il superfluo. Facciamo economia perché i soldi non ce ne stanno, tutto è aumentato, la pasta non si può comprare più, la farina non ce n'è più. Come fanno le famiglie ad arrivare a fine mese? Tante rinunce, tante, tante, tante. Davvero è una cosa spaventata. Io sono uscita stamattina e non vengo al mercato da una vita. Mi veniva da piangere a vederlo. La soluzione per molti è quella di stringere la cinghia, ridurre gli sprechi e rinunciare al superfluo. Ma si può davvero vivere così?